Ragazzi, sentite, purtroppo è proprio un periodo di M, cioè che veramente, che dire, c'ho sta scuola, sta non voglia di fare i video che ogni tanto arriva, perciò diciamo che sono un pochino masochista, perché diciamo che gli iscritti non arrivano da soli e purtroppo non so perché, sarà sto stress, in qualche modo sono molto disordinato qua e perciò ho perso, ripeto, perso definitivamente il file audio della mia voce di questa puntata. Ragazzi, che posso dirvi? Mi dispiace davvero tantissimo, ma non sto qua a rompervi le balle, questo gameplay sarà, diciamo, godetevelo così per com'è, senza la voce, sarà un normale let's play di Resident Evil 6. Puntata 20, senza voce. Vabbè, buona visione raga, perdonatemi, cazzo. Wait, follow me. l'initi, scrive, . 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 Follow me. Wait! Follow me! Wait here! Wait here! Wait here! Wait here! I need this help! I need this help! I need this help! I need this help! Oh no! I need this help! Kill him! Oh no! I need this help! no no oh matalo ok 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 Wiedersehen Oh NO 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 Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No! 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 Grazie a tutti. 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 No.